Con il mondo di Jimmy Fontana, un disco che ha fatto la storia della musica italiana, il figlio Luigi ha raccontato a Castrovillari attraverso il suo libro Il mondo che sarà la storia della mia vita accanto al mio grande papà, uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. Tanto adesso io ti guardo Spinto dalle domande di Roberto Mussolino, musicista ed editore musicale, Luigi Fontana ha parlato di come è nato il libro, che si sviluppa in più di 400 pagine, con racconti intimi. L'autore parte dalla morte improvvisa del padre per ripercorrere le varie tappe della sua esistenza. Compositore, autore, Luigi sceglie di proseguire un percorso già entrapreso dal compianto padre. Nell'arco della vita, iniziando la sua carriera nel mondo della musica. In un giro del mondo di 180 giorni, Luigi Fontana canta e suona a bordo di una nave ed è qui che inizia a scrivere anche il suo libro, partendo proprio dalla sera del 2013, in cui morì suo padre. Con l'ultima occasione Luigi Fontana si concede dal pubblico. E vederò così anche quest'ultima occasione che mi dai e sarà tardi quando poi ti cercherò a bordo di una nave. Grazie a tutti.